C'è io questa gente, c'è che ho visto proprio il cuore, c'è proprio ragione, c'è veramente ragione, è proprio sana nell'anima, no tu c'hai ragione, no tu c'hai ragione, io non è che ti voglio contraddire, però tu c'hai proprio ragione, non lo so, è che lo sento proprio di, c'è quando c'ho ragione, ho capisco, ho capisco proprio, ma perché è bellissimo, fai l'atmosfera di questo posto, secondo me perlomeno, c'ha le brevezze, senti, senti pure l'aria, è molto più pura rispetto all'aria della città, c'è proprio, c'è, te senti io, Io, come, come, c'è come, non so che se non riesci a trovare parole, lo so veramente difficile, perché l'altro ha avuto dei problemi di scuola, così profondi, che veramente, no comunque, c'è i valori, la famiglia, qui è proprio, la senti dentro, la senti dentro, il cuore, il cuore, il cuore, c'è questo alle scuole non te lo insegnano, alla scuola, alla scuola elementare, altre cose non te le insegnano, Siamo proprio connessi qua, c'è proprio qui, c'è proprio l'unione, c'è proprio, le cose, c'è proprio ragione, certe cose, tu le senti proprio nel cervello e nel cuore, 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 C'è proprio i prodotti freschi, c'è proprio il prosciutto, ma che poi qui su tutti i prodotti naturali, c'è, li quando quei signori qua erano qua, capito, perché ci hanno tirato in una maniera, in maniera veramente fantastica, c'è un città, in città, in città, in città tu, questa cosa qua, tenete proprio a cercare, qui invece la gente c'è il cuore aperto c'è veramente una cosa fantastica guarda che ne pure c'è un po' con le meraviglie della natura le meraviglie della natura queste ma in città una famiglia come questa il padre la madre e la bambina i gatti veramente una concezione della vita veramente fantastica veramente fantastica Carmine veramente fantastica veramente fantastica se è veramente io non so che dire ci sono rimasto proprio sorpreso proprio c'è delle tue vibrazioni positive ma veramente si c'è meglio di mille cannoni si giuro è veramente una cosa allucinogena allucinogena ma non c'è un bello così salito se è veramente ma non c'è un bello ma non c'è un bello e poi si mangia bene si mangia bene o bene qua si mangia veramente bene non c'è un bello proprio c'è un bello